Ciao a tutti, sono Emanuele Angelo Lilian ed in questo video andremo ad esplorare ulteriormente quello che abbiamo visto nello scorso di video, ovvero i livelli di consapevolezza anche nello studio e nell'evoluzione della seduzione. Abbiamo visto che noi maschi solitamente iniziamo che vogliamo semplicemente mangiare, ovvero svuotarci le balle, anche proprio per un discorso di necessità fisiologiche che abbiamo. Quando il cibo comincia ad arrivare però ci rendiamo conto che c'è cibo e cibo e in questo senso io vi dicevo un po' abbattuta, un po' no, che diventiamo delle donne, cioè cominciamo anche a sviluppare degli standard e quindi selezionare con chi finiamo a letto. Per quanto riguarda le donne c'è un percorso simile, solitamente una donna inizia che va bene, lo facciamo anche un po' per curiosità, un po' per vedere come va. Poi diventa una cosa del tipo, vabbè facciamolo perché facciamolo, perché magari non si è ancora trovato un amante in grado di suonare il nostro corpo su livelli orgasmici di una certa altezza, diciamo così. Mano a mano però la ragazza, specialmente se non è pienamente soddisfatta con il compagno attuale, partner sessuale o altro, comincia ad esplorare in giro e capisce che c'è sesso e sesso e quindi anche lei comincia a sviluppare un po' degli standard qualitativi per quanto riguarda la sensualità e la sessualità. Da qui si arriva al terzo livello. Per il femminile questo terzo livello solitamente rendersi conto che il proprio corpo ha veramente tanti aspetti sensuali e sessuali. Basta pensare che la donna è l'essere che ha un organo che è creato solo per il piacere, ovvero non ha funzioni fisiologiche, non ha altri tipi di funzione. Che cos'è questo organo? Il clitoride o la clitoride a seconda di, come volete dire. Se ci pensate, mentre per esempio il nostro membro maschile ha anche altre funzioni fisiologiche, oltre a quella del piacere, per quanto riguarda le donne invece la clitoride o il clitoride ha semplicemente una funzione, farla godere di piacere. Quindi si può in un certo senso dire che la donna, quella matura, si rende conto che il proprio corpo è uno strumento musicale, a seconda del suonatore può veramente creare delle melodie di piacere straordinario. Il problema li diventa trovare un suonatore capace con cui intraprendere anche un percorso di esplorazione del proprio piacere, del proprio corpo, di consapevolezza e crescita anche sensuale, sessuale, di sensibilità al piacere. Il terzo livello del maschile, che poi in realtà è molto simile a questo del femminile, è infatti, dopo esserti reso conto degli standard qualitativi, solitamente passare allo studio di pratiche spirituali legate alla sessualità, anche se sono molto concrete, ovvero ad esempio il tantra. Ve lo dico perché è un campo in cui ci sono finito anch'io di recente, anzi sto ancora studiando e approfondendo sempre di più perché ci sto trovando degli stimoli interessantissimi e già che ci siamo cercherò di accennarvi qualcosa per quanto riguarda questo aspetto qua. Allora, il tantra fondamentalmente si può dire che ci arriva dall'India e è una sorta di filosofia sensuale e sessuale della vita, ovvero parte dal presupposto che noi esseri umani siamo esseri divini qui in questo mondo per esperire e goderci anche la realtà, goderci nel senso proprio anche a livello di piacere ed in questo senso hanno anche approfondito molto sensualità e sessualità, anche perché sensualità e sessualità a seconda del livello su cui viene fatto ci può portare proprio a stati di coscienza diversi, ok? Bene, partiamo con accennarvi quali sono i tre pilastri fondamentali del tantra. Il primo pilastro è il rilassarsi, il secondo pilastro è la respirazione, il terzo pilastro è la presenza e adesso andiamo a vederli brevemente uno per uno. Il primo pilastro, rilassarsi, è fondamentale anche proprio per quanto riguarda la sessualità e le donne lo sanno meglio ancora più di noi uomini, anche se anche noi ce ne dovremmo più o meno accorgere. Più sei rilassato, più il piacere scorre su livelli elevati nel tuo corpo, cioè più sei rilassato, più riesci a sentire. Inoltre, se non c'hai la cosiddetta ansia da prestazione, quindi non sei rilassato in quello stato lì, non rischi che fondamentalmente poi non riesci a performare, tra virgolette. Infatti tanti problemi anche per quanto riguarda la sessualità proprio a letto è legata anche a questo aspetto qua. Io non sono un medico, non sono un maestro in questi campi, però so. I miei argomenti li ho anche studiati appunto perché mi occupo anche di fare delle coaching anche per quanto riguarda sensualità e sessualità e c'è un percorso comunque per cercare di aiutarti anche a rilassarti maggiormente in modo da non cadere in queste trappole ansiogene che poi non ti fanno godere te, non fanno godere lei, eccetera, eccetera. Ci sono tanti aspetti psicologici, ci possono essere anche degli aspetti fisici, perché più tu comunque segui un certo pattern anche a livello fisico, più diciamo diventa complicato poi cambiarlo ed è per questo che solitamente se c'è bisogno di seguire qualcuno su questi aspetti c'è proprio da rieducare il corpo in un certo senso. Ovviamente questo è un corpo comunque nel complesso sano se ci sono dei problemi fisici, medici, reali, vai dal medico, ok? Bene. Quindi la rilassatezza è fondamentale più una persona è rilassata più c'è del piacere e non è un caso che anche nella seduzione c'è quella fase che viene chiamata fase di comfort, che vuol dire mettere fondamentalmente a proprio agio l'altra persona ovvero farla sentire rilassata. Più una persona è rilassata più sente piacere Secondo aspetto. Il secondo aspetto abbiamo detto è la respirazione. Io sono sempre stato un po' scettico su questa cosa qui. Cioè respirare, cioè ok, cosa vuol dire? Cambi il tipo di respirazione, ti cambia l'esperienza che fai nella vita, il livello di energia, eccetera, eccetera. Ecco dopo aver praticato alcune di queste cose seguita ovviamente da un'esperta in questo campo mi sono accorto che effettivamente la respirazione cambia moltissimo anche il tipo di orgasmo proprio che tu hai come maschio, come uomo. Anche questo è un aspetto interessante da approfondire. Quindi la respirazione che si lega comunque anche alla rilassatezza è anche questo un pilastro fondamentale del tantra. E di nuovo anche le donne lo sanno bene. Sia per quanto riguarda arrivare loro all'orgasmo che hanno bisogno di essere rilassate, sia per quanto riguarda eventualmente partorire bambini che lì c'è anche tutto un discorso di respirazione per aiutarsi a farcela, diciamo. Bene. Il terzo pilastro è la presenza. Presenza che cosa significa? Significa essere lì con l'altra persona. Va molto di moda ora dire nel momento presente, stare nel momento presente diciamo semplificando che è una cosa del genere. Cioè la tua attenzione è verso l'altro e si spera che l'attenzione dell'altro o dell'altra sia verso di te. Creando una sorta di spazio sacro tra te e l'altra persona. Quindi non ci sono distrazioni, non stai pensando altro. Sei esattamente con l'altra persona. E se ci fate caso questi aspetti qua, anche tantrici, è una cosa di cui mi sono accorta anch'io e che mi ho molto stupito e l'ho trovata interessante, è gran parte di quello che cerchiamo di fare noi anche in seduzione prima di arrivare al sesso e alla sensualità. Ovvero, rilassare l'altra persona, essere presenti e quindi comunque farle capire anche dove si vuole andare e il discorso della respirazione aiuta anche in seduzione per quanto riguarda la cosiddetta ansia d'approccio. Ansia d'approccio, ok? Bene. Altri aspetti del tantra. Ovviamente hanno la loro, diciamo, il loro vocabolario per quanto riguarda le parole legate al sesso e alla sensualità. Hanno termini come lingam, che vuol dire tipo bacchetta di luce per quanto riguarda il pene maschile e hanno lo ioni o la ioni per quanto riguarda l'aspetto femminile. Un'altra differenza è che noi solitamente vediamo l'orgasmo come un climax, cioè un salire, e poi rilasciamo e basta. Maestri e maestre tantriche invece vivono più questo piacere, anche orgasmico, come un'onda, cioè più una cosa così. Non è una cosa che si consuma tutto insieme e è finita lì, ma è un continuo. Infatti tanto della pratica, soprattutto maschile per quanto riguarda, diciamo, questi argomenti, è legato anche a questo, cioè non fare... e poi tutto finito, ma prosegue. Non è un caso che chi approfondisce molto questi argomenti è in grado di durare anche diverse ore a letto. e qui non lo dico per mitologia e non per vantarmi, ma già, ok, io ancora prima di studiare queste cose avevo un gran buon controllo per quanto riguarda questo aspetto e approfondendo sto capendo anche che cosa mi aiutava, un po' a livello inconscio, lo facevo già, ad avere questo controllo. Con il tantra, diciamo, lo studio della filosofia e delle pratiche legate a questa filosofia, si arriva a capire come fare. Bene, altre cose, oggi il sesso fondamentalmente a livello sociale, lo sappiamo, viene usato per vendere oppure è repressione, ok? Cioè tu lo vedi ovunque perché ti vogliono vendere le cose, ci sono le belle ragazze accanto alle macchine, accanto a quello, accanto a quell'altro, quella che va a fare la spesa, eccetera, eccetera, tutte gnocchissime, telefonia, eccetera, per venderti le cose, quindi in quel caso va bene oppure viene represso, perché anche se si dice il sesso è libero e tutto quanto, io mi guardo anche attorno, anche qui in Italia, in realtà c'è molta difficoltà ad aprirsi a livello sensuale e sessuale. Cioè c'è bisogno di tantissima sicurezza, ma moltissima. Se fossimo veramente in una società in cui il sesso non fosse distrattato, non ci sarebbe tutta questa difficoltà per arrivare alla conclusione, anche tutte queste arti di seduzione che insegno anch'io, eccetera, ce ne sarebbe bisogno in misura molto molto minore, cioè non sarebbe più anche un sorbassare i condizionamenti sociali tuoi e delle altre persone, sarebbe semplicemente un elicitare, cioè un aumentare il piacere dell'esperienza che dà l'altra persona prima e dopo il sesso, oltre che durante ovviamente, però la seduzione è legata soprattutto all'aspetto prima di arrivare alla conclusione e dopo arrivare alla conclusione come prosegui se vuoi avere una relazione con l'altra persona. L'aspetto sessuale è un altro aspetto, un altro mondo. Ok, bene, altri discorsi per quanto riguarda sempre il tantra. Vediamo un po', controllo due appunti per vedere se mi viene in mente qualcosa. Un'altra cosa, viviamo nella società del fast food, del tutto veloce, bisogna fare tutte le cose velocemente, eccetera, eccetera, anche questo è antitantrico, ovvero antipiacere. Un'altra cosa su cui si concentra il tantra è cercare di rallentare per quanto riguarda la sensualità e la sessualità, cioè godersi il momento, stare proprio nella sensazione che il tuo corpo ti regala, perché il corpo nel tantra è visto proprio come uno strumento di piacere attraverso cui noi esperiamo la realtà, che è una cosa piacevole. Invece noi siamo abituati anche in seduzione a volte a pensare che c'è l'obiettivo e quindi bisogna stare lì, bisogna fare, ci autostressiamo, quindi non siamo nella presenza. Oppure magari con i mille impegni che abbiamo, anche se abbiamo una relazione, eccetera, eccetera, non c'è molto tempo per creare diciamo uno spazio sacro in cui esplorare anche la sessualità con l'altra persona che quindi viene sacrificata. Ed è anche uno dei motivi per cui le relazioni non durano sempre tantissimo. Uno è questo, un altro motivo è perché non c'è l'aspetto di cui vi ho parlato un paio di video fa all'interno delle relazioni dell'esplorazione e anche della crescita. Cioè si crede che la relazione sia una sorta di contratto, quando ce l'hai sei arrivato e che sia finita lì. No, una cosa che è finita lì è morta. Una cosa morta non è divertente, ok? Le cose morte non sono divertenti. Invece se una cosa è viva, c'è una esplorazione, una crescita continua delle persone entrambe che quindi riescono a portare anche sempre nuove cose all'interno della relazione, good. E questo mi porta anche a un'altra riflessione interessante che ho trovato sempre approfondendo questi strumenti e che si aggiunge sempre al discorso monogamia. La monogamia, anche da un punto di vista un po' tantrico, ok? Viene vista anche come una grossa, grossissima responsabilità nel tantra. Perché? Perché tu fondamentalmente diventi l'unico strumento di fondamentalmente rilascio e piacere fisico, sensuale, sessuale dell'altra persona. Sia per quanto riguarda tu maschio, sia per quanto riguarda tu femmina. Quindi non è che sei relazione ed è tutto finito. Sei relazione se lui o lei non può andare con altri, tu ti devi prendere molta cura di lei o di lui. Molta più cura. Cioè, è tua responsabilità. Qui mi riferisco in buona parte anche alle donnine che a volte utilizzano sensualità e sessualità anche all'interno della relazione come strumenti di ricatto. E non è una cosa carina. L'ho visto fare diverse volte. I maschi solitamente non lo fanno. Anzi, sono quelli che hanno sempre voglia di... Bene. Rivediamo di nuovo un po' i nostri appunti. Un altro aspetto molto interessante è che la sessualità non è vista come un fare, ma è più un essere. E questo mi è piaciuto moltissimo perché si lega anche tantissimo alla mia seduzione, alla mia visione della seduzione. Ovvero del prima e dopo anche il sesso. Ovvero che non è un devi fare questo, 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 devi dire questo, 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 così poi lei x, y, z. No, per me la seduzione, lo specifico dall'inizio, nei miei programmi di seduzione, è un essere. Cioè incarnare e diventare qualcosa. Il tantra ha una cosa, una visione molto simile per quanto riguarda sensualità e sessualità, anche proprio a letto. Cioè tu incarni il tuo piacere anche. E quindi si può dire, è sempre legato a questo anche, che cose tipo l'orgasmo non è anche quello un fare, cioè devo far venire l'altra persona. No, sessualità e sensualità è anche proprio godersi tutta l'esperienza con l'altra persona intima, anche i preliminari, anche quello che è prima che siamo nudi, anche il parlare, anche lo stare lì, guardarsi e basta, ok? Tutto questo viene vissuto sul livello di piacere. Infatti un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo e questa mi ha aiutato moltissimo anche a me per quanto riguarda questi studi qua, è che il tantra lavora tantissimo sul tornare a farti sentire con tutto il corpo. In un accaso, uno degli orgasmi a cui ti può portare e far arrivare è quello, l'orgasmo col tutto il corpo, che è un orgasmo sia maschile che femminile. E io questo lo sto sperimentando, sto iniziando a sperimentare, ok? Adesso, non sono ancora tutto 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 il corpo, però sento qualcosa muoversi in qua e là. È un orgasmo ovviamente diverso rispetto a quello genitale, diciamo, però è interessante scoprire anche questa cosa qua. E uno dice, boh, ma il mio corpo è mio, dovrei saperle queste cose, dovrei sentirle, eccetera, eccetera. Invece scopri che tante cose non lo sai, non le sai. E anche sensualità, sessualità, riproduzione, boh, non so quante persone saprebbero se non ci fosse comunque dell'informazione in giro. E una cosa molto bella che fanno questi studi qua è approfondire tantissimo sensualità e sessualità portandoci a capire che c'è molto di più che non sappiamo su di noi e che dobbiamo scoprire. È un po' il bello della vita. Arriviamo qua, uno dice, vabbè, sono io, saprò chi sono, saprò cosa farò, eccetera, eccetera, come farmi stare bene, eccetera, eccetera. E invece poi scopri che non sai assolutamente nulla e devi scoprire tutto. È un po' l'aspetto divertente, diciamo, anche di sfida della vita. Bene. E a questo punto controllo rapidamente se c'è qualcos'altro di cui mi sono scordato. Ah, ok, sì. Questo è abbastanza interessante, cioè anche che il sesso e tutto il momento sessuale è visto in maniera sacra, ok? Quindi come una sorta di rituale. Tutto è un rituale. E questo ultimamente penso che lo testerò anche per quanto riguarda la seduzione. Cioè viversi il contatto con l'altra persona come qualcosa di sacro, ancora prima di arrivare al sesso. Che il sesso era qualcosa di sacro io già lo sapevo. Però proprio anche l'incontro con l'altra persona che lo sia, un momento speciale perché incontri il divino nell'altro anche, questo un pochino mi mancava, un pochino l'avevo intuito, però non l'ho mai praticato con costanza. E, diciamo, questi studi qua, tantrici, mi hanno anche spinto ad approfondire queste cose qua. È interessante anche un discorso che fanno sulla sensualità e la sessualità che può essere usata in maniera buona o in maniera cattiva. Cioè in maniera buona, tra virgolette, è per creare, diciamo, per ispirarti, per crescere, per evolvere. In maniera cattiva è per manipolare l'altra persona. E, di nuovo, molte ragazze lo fanno, però anche alcuni ragazzi lo fanno, specialmente quelli che intraprendono studi della seduzione manipolatori fatti da narcisisti psicopatologici, eccetera, eccetera. Non ci voglio entrare in questi argomenti, però, diciamo, dove tu fondamentalmente devi manipolare l'emozione dell'altra persona, anziché esprimerti e trovarti in maniera autentica con lei su uno stesso terreno, tra virgolette, e sacro. E nulla. Vi lascio dicendovi che uno degli ultimi aspetti, visto che è un problema anche moderno questo, di cui ho sentito accennare una delle mie due insegnanti, è legato al discorso che comunque le relazioni molto spesso non sono una cosa che inizia e durerà per sempre, ma sono percorsi di vita, ok? Cioè, la relazione è uno spazio sacro e dura finché c'hai da spazio di crescita, da imparare, eccetera, eccetera. Altrimenti poi si evolve, si matura, si cerca altro. E questo non viene visto negativamente, necessariamente, nel tantra, ok? Sicuramente, fin tanto che non ci sono parti, diciamo, ferite, e si cerca di comunque risolverla, tra virgolette, bene. Mi rendo conto che non è sempre possibile, è argomento magari di altri video, magari ne parlerò altrove, però diciamo che anche questa visione l'ho trovata affine anche a quelle che sono state le mie esperienze. Cioè, a seconda della fase della vita e della maturità della vita in cui tu sei, molto spesso ti può capitare una persona piuttosto che un'altra. E magari con una persona, ok, ti può durare, eccetera, e a un certo punto poi o quella persona o tu stesso o stessa dici, ok, però non mi sta più dando nulla di quello che è anche la mia risonanza interiore. E quindi magari ci si passa su queste cose. E niente. Diciamo che si può concludere questo video. Poi ovviamente io qui vi ho dato un'infarinatura molto generale, molto veloce, cioè ci sarebbe tantissimo da dire. Tutto il lavoro sull'intenzione sessuale, tutto il lavoro sulla masturbazione, anche per conoscere meglio il proprio corpo, sui diversi tipi di masturbazione, anche a seconda del respiro, come vi ho detto prima, a seconda del tocco, i massaggi tantrici, ok, nei confronti di lei, a seconda della parte del corpo, a seconda di come la tocchi, eccetera, eccetera. È veramente un mondo grandissimo da esplorare, che io stesso sto esplorando tuttora, ma devo dire che mi ha già dato anche degli strumenti utilissimi, anche eventualmente, nel caso in cui mi trovassi a seguire dei clienti o delle clienti femmine. perché effettivamente mi rendo conto che anche la sicurezza e la consapevolezza al letto, sessuale, 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 sensuale, è una componente fondamentale, cardine anche rispetto a come ci muoviamo fuori dal mondo, ok? Quindi, per esempio, la confidenza, la sicurezza di sé di un maschio può essere legata anche al sapere che tu puoi dare piacere a una ragazza, e quindi, se spingi per concludere, sai che non deluderai, altrimenti magari ci puoi avere un po' di ansia, ansia di approccio, o ansia da prestazione, quando sei ormai lì, ok? Insomma, tantissime cose da approfondire, bellissimo argomento, e sono sicuro, o almeno lo ritengo molto probabile, visto come sta andando, che capiterà di girarci anche altri video e fare altri accenni in quella di questi argomenti. Io a questo punto vi saluto, spero che abbiate trovato interessante anche questo video. Ciao!